buongiorno mister buongiorno a tutti e rimini che torna a giocare davanti al pubblico amico con la torres momento un po delicato se vogliamo il primo momento veramente delicato della stagione perché sono arrivati solo due punti nelle ultime quattro partite quindi insomma può essere l'occasione per riprendere la marcia assolutamente sì momento delicato in calcio i momenti sono delicati a seconda dei risultati e sono euforici i risultati è giusto che sia così parlavamo anche con i ragazzi stamattina torno a ribadire che noi dobbiamo essere più sereni possibile all'interno però questo non vuol dire non prendere atto di quella che è la situazione perché poi quando non si raccoglie bisogna sempre capire perché non si è raccolto cerca di migliorare abbiamo fatto un periodo quale ci girato anche tutto bene adesso abbiamo fatto un periodo nel quale abbiamo racconto che è un po meno onestamente di quello che ha detto il campo e dobbiamo riprendere la nostra marcia secondo me offrendo una prestazione da rimini in casa contro qualunque sia l'avversario no nel senso c'era torres ma potrebbe essere qualunque avversario perché quando vieni da un momento così devi essere soprattutto concentrato su te stesso sappiamo e abbiamo detto che ci sono mancate alcune cose nelle ultime due partite che non sono state neanche tanto tattiche sono state più di atteggiamento di attenzione di capacità di dare il massimo fino alla fine di spremersi di andare oltre rispetto a due squadre che stavano bene e dobbiamo farlo noi rispetto agli avversari il resto poi diventa tutto relativo sull'avversario sulla torres la torres è una squadra in linea con secondo me i programmi una squadra che può tranquillamente salvarsi secondo me senza problemi per guardare che la rosa disposizione in salute perché comunque ha perso una delle ultime cinque partite quindi una squadra comunque sta bene una delle ultime cinque ha vinto l'ultima una squadra che ha un buon parco attaccanti davanti siccome è molto competitiva perché comunque Lupi lo conosciamo tutti di Akite è un giocatore che ha una fisicità importante Capini adesso sta anche in condizione Ruocco è un giocatore che sta facendo la differenza quindi comunque davanti la squadra si propone bene poi non ha fatto tanti gol ma non ha fatto tanti gol perché è una squadra che difende di squadra compatta lascia pochissimo spazio tra le linee è una squadra che si sa difendere dove tutti i partenzi per una fase difensiva quindi di conseguenza poi magari la fase offensiva diventa più sporadica no più basata su episodi ma questo non vuol dire che non abbia qualità davanti per il resto blocco squadra che secondo me lavora bene con una buona fase difensiva non bassissima come abbiamo visto la fermana per esempio però neanche super aggressiva una squadra che sa compattarsi dal punto di vista tattico un po più simile magari all'alessandria che abbiamo visto nel primo tempo qua secondo me e quindi c'è bisogno di tutto nel senso che noi prima di tutto abbiamo partito dalla mentalità nostra e poi dentro quello ovviamente cerca di fare una partita anche superiore a quella che abbiamo fatto a Ponte d'Era dal punto di vista soprattutto della costruzione perché Ponte d'Era purtroppo venendo anche da parte con Cesena dove era una partita dove aveva verticalizzato molto e aveva pagato molto questa cosa qui Ponte d'Era se aveva qualche riflessione in più in fase di giropalla e siamo stati un po' precipitosi certe volte e questo ci ha portato secondo me a trovare meno capacità di giocare dentro l'avversario un po' mi aspettavo sinceramente perché avevamo provato delle cose nuove aveva fatto solo tre giorni e non si è riusciti a portare tutto subito però adesso dopo una settimana di lavoro secondo me possiamo benissimo anche con un sistema nuovo entrare dentro l'avversario come facevamo prima con il 4-3-3 Ricomincio una settimana nella quale avete tre partite no? Coppa Italia compresa e l'infermeria vi ha creato ultimamente un po' di problemi quindi avrai anche la rosa un po' più stretta tra virgolette e come si gestirà il periodo? Allora in questo momento per la verità la coppa viene anche a fagiolo come si suol dire perché adesso stretti non siamo più stamattina qui eravamo in tanti abbiamo fatto anche fatica a gestire la rifinitura la posizione numerica operavamo in molti perché poi diventa un problema anche quello siamo in tanti giocatori e magari pochi in questo momento qua che magari possono gestire una partita di 90 minuti perché tanti rientrano da magari infortuni, acciacchi, assenze eccetera eccetera però non abbiamo problemi di numeri quindi cos'è che succede? Succede che noi vogliamo far meglio in tutte le due competizioni e l'ha detto e l'ha ribadito la società e io voglio cercare di capire chi sta meglio poi è evidente che in questo momento qua magari in campionato cerco di capire proprio chi è più pronto anche a giocare i 90 minuti completi in questo momento qua almeno teoricamente sulla carta dall'inizio e mentre ci sarà magari qualcuno che ecco perché dicevo viene a fagiolo magari la partita di in fase settimanale viene utile perché comunque sia per fare minutaggio vero sia per riprendere confidenza col campo sia per far capire che c'è perché è importante anche quello quindi a questo punto di vista secondo me abbiamo la possibilità anche di cambiare tanto tra le due partite ma senza avere problemi di effettiva qualità di squadra che mettiamo in campo La strada è sempre quella del 3-5-2 o è variabile? No in questo momento qua è obbligata per me come vedo io la rosa nostra finché almeno non abbiamo in partenza Panno finché almeno non abbiamo più attaccanti esterni a disposizione dal primo minuto che possano giocare diciamo un tempo sensibile di partita e non soltanto magari uno spezzone Il discorso a difesa 5 è un discorso un po' più ampio che ho già fatto con la squadra ed è un discorso che secondo me riguarda la nostra rosa il 200% ma questo non preclude poi la possibilità di utilizzare un tridente o un trequartista sono cose che sappiamo che si possono fare Nell'immediato abbiamo un parco attaccanti per quale secondo me che stanno bene dico per quale secondo me ha senso portare avanti l'idea della doppia punta Poi magari già mercoledì o sabato prossimo visto che oggi sia Piscitella sia Gabbenelli sia Sereni sono allenati con la squadra magari riusciamo anche a vedere qualche giocatore offensivo in più in campo Quindi questo presuppone che Sereni non è pronto per giocare dal primo minuto? No per me non è pronto per giocare dal primo minuto e deve soprattutto riaffacciarsi sul campo in maniera agonistica vera e far vedere quello che è in grado di fare questo momento qua quindi lui può entrare benissimo domani in partita e può giocare anche mercoledì insomma poi il minutaggio diventa un problema poi da verificare di caso in caso Gabbenelli è stato il suo discorso? Gabbenelli si è andato solo oggi, è dieci giorni che fermo però è a disposizione, se c'è bisogno di fare venti minuti può fare è un giocatore che è completamente recuperato, semplicemente non ha fatto lavoro con la squadra Chi mancherà? Soltanto Mencagli e Loduca, Loduca ha un'influenza e Mencagli è fuori penso 3-4 settimane Aspetto a Ponte Vera quindi davanti abbiamo capito, in mezzo cambi qualcosa? Ma in mezzo a tante soluzioni, può essere che cambia qualcosa Non cercare di capire chi sta meglio, il resto è tutto relativo Non capire chi sta meglio e qualcosina cambiamo Dopo un anno e mezzo più o meno, questo è il primo vero momento di difficoltà che state, stai principalmente tu perché sei qui attraversando come si supera e come si abitua a un ambiente molto abituato a vincere anche a soffrire? Noi cerchiamo di soffrire il meno possibile intanto sicuramente secondo me si supera con l'ambiente con una società di livello che anche in questo momento qua è super presente i ragazzi hanno visto e non ha mai cambiato atteggiamento né quando si vinceva né in questo momento qua che magari le ultime due o tre partite hanno fatto più fatica e poi si risolve col lavoro e quello fa parte del mio lavoro insomma ecco, i ragazzi sono obiettivamente un gruppo sereno che sa lavorare è normale che in questo momento tutti vorrebbero dare una mano e questa cosa qui poi magari porta a vivere la settimana anche con si può dire trepidazione ma siccome da giocare ce n'è per tutti loro devono continuare a fare quello che stanno facendo nel migliore dei modi che poi il resto viene da solo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.